YOLANDA SWITZ Anche se vi ho fatto il video l'altra volta Però voglio farveli vedere anche ora Perché non vi ho fatto vedere in realtà Le altre cose che ci sono in questo restock Oltre agli slime ci saranno altre tre cose Ossia la zucca Trick or treat E due mystery bag Allora ve li faccio vedere nel dettaglio E vi faccio anche un pochettino Di ASMR con gli slime che ho qui Il primo slime che vi voglio mostrare È Locus Pocus Guardate quanto è pigmentato Questo slime E profuma veramente Tantissimo Ed è stra-iper-mega-thick Ok Questo è lo slime Ocus Pocus che vi ho fatto vedere Già l'altra volta Che è uno dei miei super pezzi preferiti Perché è proprio super super Halloween Vi volevo dare una notizia spettacolare Perché chiunque comprerà gli slime Quindi chi comprerà Quindi chi comprerà Locus Pocus Il Witch's Cake Lo Spooky Unicorn Potion Lo slime Halloween Oreo E chi comprerà il Candy Corn Riceverà in omaggio E dico in regalo ragazzi Ho una zucchetta Ho una zucchetta Ho un teschietto così piccolino Con all'interno cioccolata e caramelle Adesso vi faccio vedere Invece L'Halloween Oreo Già che sta qui Non si vede Ma all'interno Raga Ovviamente In ogni slime Ho messo Lo charm Tipo Come questo qua Charm di Halloween Guardate qua Tutte le cosine Sopra Ragazzi Questo slime Ha una base Stra-iper-mega-densa E stra-iper-mega-americana Tutte le cosine poi ragazzi un altro slime di questo restock è questo qua che è il trick or treat che è ve lo faccio vedere è fatto così e vuole ricordare proprio diciamo tutti i colori di halloween con le caramelle eccetera è uno slime a base americana bianco che praticamente è a sostituzione del birthday cake in questo caso ho fatto il trick or treat proprio in onore di halloween guardate la base quanto è glossy ovviamente anche qua dentro c'è lo charm di halloween che è qui da qualche parte eccolo qua questo slime è veramente stra iper mega morbido guardate qua che meraviglia guardate che bello ragazzi è stra 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 iper morbido stra iper colorato con i colori di halloween è stra iper mega scoppiettante prossimo slime che vi voglio mostrare di cui posso fare anche la smr è questo qua che è lo spooky unicorn potion gli altri due slime purtroppo del witch cake non ve lo posso far vedere perché purtroppo l'ho finito però di mike e sally ce l'ho ancora e anche del candy corn mi posso far vedere diciamo la base questo è lo spooky unicorn potion guardate qua che meraviglia c'è un fantasmino all'interno è viola proprio come se fosse una pozione di unicorno lo adoro questo qui anche ragazzi sono tutti fatti con base americana e sono tutti quanti ovviamente con charms e profumazioni diverse e C'è un po' di sottotitoli ok questo è lo spooky unicorn potion adesso vi mostro così se volete vedere come è fatto veramente il witch's cake andate a vedere il mio video dove ho fatto con voi gli slime di halloween di questo restock il witch's cake è questo qua allora è un butter slime creamy molto sleigh e inflating sotto c'è lo charm di solito lo charm che ho messo è questo qui potete trovare anche qualcosa altro con la streghetta però a quasi tutti ho messo la streghetta che è questa qui doppio colore che è lilla o viola e verde con palline, glitter e queste spugnette verdi sopra ed è un butter slime se volete vedere com'è andate a vedere quel video poi adesso vi mostro questo qui guardate quanto è bello è un fits slime e questo qui è il crispy candy corn questo profuma proprio di candy corn di dolce, di caramella comunque questo slime qui che è il crispy candy corn lo trovate anche in edizione limitata domani allo slime conita questa è la base del crispy candy corn ragazzi e quindi vi mostro invece i due slime Mike e Sally sono questi slime qua sono uno slime di coppia che voi lo sapete chi sono Mike e Sally vero? se non li conoscete andate a vedere il film Monsters & Co della Disney Disney Pixar che è bellissimo Mike e Sally sono venduti in questa confezione con all'interno una lecca lecca, una caramella e sono venduti insieme guardate, adesso vi faccio vedere la base di tutti e due di slime anche Mike e Sally saranno venduti all'interno di questo non solo all'interno di questo restock ma anche allo slime con ita, questa è la base di Mike Wasowski che è una base di icy slime o jelly slime cosa ho messo all'interno? ho messo ovviamente la neve, gli occhietti e questo qua profuma di limone guardate come è sparaflesciato e poi ci sono dei glitter verdi vi stacco un pezzettino per farvi vedere la base guardate qua che meraviglia ragazzi è veramente super 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 denso ma allo stesso tempo super elastico e super morbido ma anche scoppiettante guardate che dentro c'è la neve vedete come si vede? è un jelly sentite icy slime veramente super top ed è super profumato di limone e questo è questo qui ragazzi Mike Wasowski all'interno di Mike Wasowski non solo troverete questi occhietti ma troverete anche un occhietto fatto così che è una pallina rimbalzina poi vi faccio vedere adesso invece Sally questa è la base che ho usato per fare Sally infatti guardate ho ancora qui un pezzo di viola e guardate quanto è drizzly ragazzi mamma mia ragazzi quanto adoro questa tipologia di slime adesso vi mostro invece le mystery bag e la zucca trick or treat prima la zucca trick or treat che è questa qua allora quella che vi faccio sul sito ragazzi è veramente un prezzo super speciale perché all'interno della zucca troverete la mia penna troverete una miriade di dolcetti ma proprio 300.000 e troverete oddio se lo riesco a far uscire e poi c'è uno slime così all'interno in questo modo guardate ovviamente noi vi spediremo vicino anche e sempre l'addensante con tutte le altre cose insieme guardate qua che meraviglia queste confezioni sono troppo troppo carine quindi all'interno troverete caramelle le cacioccolatini slime e la mia penna e sarà tutto impacchettato all'interno di una confezione troppo carina poi queste due mystery bag in realtà all'interno ci sono le stesse cose infatti ve ne apro una solo che potrete scegliere la confezione che volete o quelle in cartone o queste qui fatte in questo modo ma le cose rientrano non cambiano ci sono sempre le caramelle un sacco di caramelle e ci sta lo slime misterioso all'interno che è fatto così a differenza della zucchetta qua dentro non c'è la penna ma ci sono solamente le caramelle e gli slime va bene ragazzi ok grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto per far vedere gli slime che saranno disponibili nel mio rifornimento di oggi alle ore 18 io vi mando un bacione un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video bye bye